Hanno inscenato un sit-in bloccando per qualche minuto anche via Aquila i residenti del Vasto che stamattina hanno protestato con cartelli e striscioni per dire no alla realizzazione del centro per senza fissa dimora. Le attività che dovrebbero svolgersi da qui a qualche mese nei locali delle ferrovie dello Stato, fittati dal Comune di Napoli, saranno diurne notturne, prevedranno servizi di front office, docce, deposito bagagli, una lavanderia, bagni per uomini e donne, un parrucchiere, un centro estetico, area ristoro, sportelli per l'orientamento, lavoro e mediazione linguistico-culturale. Un progetto certamente lodevole, quello messo in piedi dall'assessorato al welfare di Luca Trapanese, ma che secondo Adelaide Dario, presidente del Comitato Quartiere Vasto, va rivisto e destinato ai giovani del quartiere e agli extracomunitari di seconda generazione. Io capisco che non vogliono perdere questi fondi, ma va bene, bisogna semplicemente cambiare il progetto, noi vogliamo qualcosa per i ragazzi del quartiere e i ragazzi, quando dico giovani del quartiere, sono anche quelli extracomunitari nati di seconda generazione per dare un'alternativa alla strada a tutti i ragazzi. 350 metri quadrati di locali fronte strada, il centro prevedrà 400 ingressi giornalieri e una presa in carica di 82 senza fissa dimora, con collegamenti con la ASL e i centri famiglia. Paolo Lopomo, vicepresidente del Comitato Quartiere Vasto, precisa. Un progetto sociale che deve partire prima per noi residenti del quartiere, che c'è anche una dispersione scolastica spaventosa. Ma cosa temono i cittadini e i commercianti del Vasto e di Via Aquila una volta che il progetto sarà operativo? Le grandi stazioni che ha pensato, siccome i locali qui in questione sono i suoi, vuole togliersi il problema da casa sua e vuole portarcelo al casa nostra. Sindaco, amministrazione, non potete fare solo quartieri emigrati, perché il Vasto diventa solo per i quartieri dell'immigrazione. Dobbiamo fare qualcosa di nuovo, creare librerie, creare cultura. Un problema grosso di igiene, di problematiche mentali, perché qui non ci troviamo solo di fronte al problema di abbandono di queste persone, ma un problema mentale, perché noi basta che andiamo alla stazione e vediamo in che condizioni ci troviamo a vivere.